Lo so che i testi sono un po' tristi, però è inevitabile che qualunque cosa vuoi considerare arte debba prendere spunto dal momento storico in cui nasce, quindi il nostro momento storico fa abbastanza cagare. La cartomante. Il nostro creatore è venuto da molto lontano, dalla polvere tra le macerie della storia, persa nel silenzio di un destino dannato dove da mille anni non trova pace né gloria, quando l'ho conosciuta si raccontava senza fretta la cartomante tra un bicchiere di vino e un'altra sigaretta. E mentre leggeva il futuro come l'avesse davvero vissuto, cercavo nel suo sguardo oscuro tutti quei mondi che non ho mai conosciuto. E lei rideva, rideva guardandomi negli occhi, mi parlò della sua morte, di quel suo antico viaggio, di un ricordo perduto tra frammenti di specchi, di una maschera sconosciuta dal borgo di Pagliaccio, che nasconde la sorpresa del giorno ritrovato in fondo all'oblio del suo inferno privato. E mentre leggeva il futuro come l'avesse davvero vissuto, coglievo nel suo sguardo oscuro l'incubi che ancora non ho conosciuto. La cartomante cantava e piano piangeva, mentre una bianca farfalla attraversava il suo sguardo a mostrare la leggerezza e nulla in cui volava come la vita si spreca in questo mondo bastardo che non dona sollievo né felicità alcuna ma soltanto una notte senza molto rischiarata dalla luna. E mentre leggeva il futuro come l'avesse davvero vissuto, capivo dal suo sguardo oscuro che il mio mondo in fondo non l'ho mai conosciuto. Le cartomanti che strana razza come i poeti ti raccontano la vita tra infiniti. segreti. Grazie.